dall'unica sorgente centrale, dal piano concettuale umano al superumano attraverso Pietro Ubaldi. Allora la molteplicità e diversità dei giudizi non è che l'indice che segna la distanza dell'intuizione dall'unica sorgente centrale. Più l'essere si perfeziona, più l'istrumento coscienza si sensibilizza e si potenzia e più l'unità concettuale del vero appare evidente. La dissonanza delle contraddizioni è dunque dovuta solo all'intorbidamento dello specchio riflettente e data dal grado di inquinamento del mezzo recettivo. Le scissioni nelle conclusioni indicano il grado di corruzione del pensiero e la distanza che quella scava tra sé e Dio. L'armonia perfetta nel centro si corrompe man mano che si allontana nell'imperfezione di risonanza della periferia. È l'ignoranza umana che irradia disordine. È l'involuzione che genera il caos.